ciao a tutti e bentornati sul canale del gruppo facebook un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri il gruppo che sta dalla parte del lettore in questo canale scegliamo e leggiamo per voi le migliori recensioni pubblicate sul nostro sito non si tratta sempre dell'ultima novità ma di libri che ci sono piaciuti di nicchia a volte insoliti a volte dimenticati comunque sempre da scoprire e riscoprire insieme vi ricordiamo anche che sul nostro sito trovate le puntate del nuovo giallo di silvia volpi la metà pericolosa una lettura in esclusiva per i nostri iscritti disponibile fino a dicembre del 2020 il libro di oggi è l'ultimo teorema di fermat fermat's last theorem di simon singh matematico e ottimo divulgatore questo saggio è stato scritto nel 1998 e tradotto in italiano da carlo capararo e brunello lotti per rizzoli nell'anno successivo l'ultimo teorema di fermat's è un saggio che si legge tutto d'un fiato perché ha la struttura di un thriller e che porta il lettore a scoprire sorprendenti aspetti della matematica che difficilmente vengono trattati a scuola l'argomento in breve pierde fermat un matematico francese del secolo diciassettesimo sosteneva di poter dimostrare che per tutti i numeri interi maggiori di 2 della variabile n non esistono terne di interi positivi a b e c per le quali si abbia a alla n più b alla n uguale c alla n il punto è che sosteneva sì di poterlo dimostrare ma di non avere spazio per farlo creando così un fantastico rompicapo capace di appassionare i matematici dei secoli successivi che inevitabilmente si sentivano sfidati singh racconta così 300 anni di storia della matematica attraverso le vicende divertenti e tragiche degli studiosi che hanno cercato di svelare il segreto del teorema emblematico il caso del professore giapponese che fa harakiri per aver fallito la dimostrazione o dei due che si sfidano un autentico duello fino ad arrivare ai giorni nostri quando uno scienziato inglese dopo aver dedicato tutta la sua vita a cercare la soluzione dell'enigma riesce a vincere un premio che da quattro secoli aspettava di essere assegnato ma la soluzione è davvero la risposta che cercava appassionante come un romanzo essenziale e godibile scritto in un linguaggio chiaro anche per chi sia quasi a digiuno dell'argomento il saggio di singh si segnala anche per il sottile humor tipicamente inglese con il quale l'autore illustra questa particolare vicenda che viene citata anche in altri romanzi come per esempio un uomo di oriana fallaci e la ragazza che giocava col fuoco di stig larson e viene citato anche in molti episodi di diverse serie televisive se avete letto questo libro e volete discuterne con noi iscrivetevi al nostro gruppo facebook visitate il nostro sito o seguiteci su instagram trovate i link nella descrizione sotto se vi è piaciuto il video non dimenticate di lasciare un like e di condividerlo con i vostri amici a presto e buone letture